buona giornata amici di fano tv ben trovati alla rassegna stampa di oggi martedì 27 giugno 2023 vediamo subito chi si festeggia oggi sfogliando l'almanacco del giorno e vediamo che oggi è la festa di san cirillo d'alessandria cirillo visse in quel crogiolo di cultura che era alessandria d'egitto dove si mescolavano le credenze greche quelle egiziane quelle romane quelle cristiane non sempre però la convivenza era pacifica e la storia di pazia insegna ma cirillo fu un grande difensore della ortodossia della sua fede che propugnò nel concilio di efeso ecco perché poi è stato venerato un po tra l'oriente e l'occidente insomma è un santo che viene venerato da tutti vediamo le previsioni del tempo ecco qua la grafica delle marche c'è sole dappertutto cieli oggi in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da est e sud est al pomeriggio tesi e proveranno da est e sud est nella stessa direzione il mare è poco mosso le temperature si aggirano tra i 22 e i 31 gradi chiediamo conferma a livello sensoriale dal nostro amico bagnino nicola tanfani di bagnerzilla buongiorno nicola buongiorno buongiorno a tutti allora oggi sarà una giornata calda come quella di ieri una giornata serena tranquilla immagino speriamo di sì cielo azzurro senza nuvole leggermente ventilato ma ci sta veramente bene senti a proposito del ventilato c'è un articolo sul giornale oggi sul corriere adriatico che dice torrette abbattute dal vento ripristino lento è un po quello che accade nelle spiagge libere ci stiamo dedicati alla vigilanza richiamo delle comune sono un po i concessionari no sono un po i bagnini che si occupano del salvataggio delle spiagge libere ma che hanno così evidenziato un forte vento è successo anche nella tua concessione ci sono stati problemi noi no non abbiamo riscontrato problemi di vento nella giornata di ieri quindi mi sembra strano ecco però sì da noi non c'è stato vento ci sono state delle torrette di avvistamento addirittura abbattute e quindi cadute dal vento però insomma forse un fatto episodico quindi una giornata tranquilla nei bagni a zilla sì una giornata tranquilla stiamo pulendo la spiaggia stiamo parlando le alghe che sono venute con il mare mosso degli altri giorni e ci prepariamo ad accogliere i nostri clienti ecco nei ieri abbiamo accennato alla dotazione veramente importante di canti campi sportivi nei bagni a zilla è un'attività questa che attira molti giovani sì per fortuna nella nostra spiaggia abbiamo cinque campi da baseball di un campo di cemento che dove si può giocare a basket calcio tennis tennis e per fortuna è una cosa che attrae molti molti ragazzi anche scegliere la nostra spiaggia proprio perché abbiamo tanti campi da baseball dove ci si può giocare e questo prolunga è anche l'attività diciamo così destagionalizzata un pochino al di là dell'estate vera e propria di quella balneare sì sì infatti ci permette di poter aprire anche prima e chiudere dopo proprio perché i ragazzi vengono a giocare quindi poi dopo con il bar ti permette di lavorare e magari prendono anche il sole qualcuno ma principalmente vengono a giocare prima e dopo la stagione benissimo nicola chiudiamo qui ti ringrazio è bello vederti con il cielo azzurro dietro le tue spalle e quindi ti auguriamo ti auguriamo una buona giornata e ci risentiremo domani giornata a presto domani ciao ok apriamo ora i giornali per dare un'occhiata alla rassegna stampa abbiamo di fronte a noi l'articolo di apertura sulla pagina di fano del resto del carlino a monsignor trasarti le chiavi della città stasera ci sarà nella ex chiesa di san francesco alle ore 21 il conferimento della cittadinanza onoraria al nostro vescovo che ha finito che ha terminato il suo mandato e ora se ne tornerà nella sua fermo in attesa che domenica 9 luglio arrivi monsignor andrea andreozzi che sarà ricevuto intorno alle 17 al pincio appunto dove inizierà il suo episcopato stasera il conferimento della cittadinanza onoraria alla san francesco domenica l'ultima messa in cattedrale questo alle 18 domenica 2 luglio e poi il 9 l'arrivo del nuovo vescovo sarà un momento quello di stasera per salutarlo ringraziarlo e ripercorrere insieme il suo cammino è stata una decisione che su proposta del sindaco massimo seri è stata approvata nell'ultima seduta nella penultima anzi seduta del consiglio comunale di fano che dire di monsignor armando trasarti è stato un presole che per 16 anni ha governato la chiesa di fano non ne limitandosi a governare la chiesa ma essendo anche un punto di riferimento per tante altre realtà per tanti altri problemi anche di carattere civile è stato un grande difensore degli umili degli ultimi dei più deboli ha proprio ricostruito la chiesa fanese restaurando tante opere d'arte restaurando tante chiese anche i luoghi hanno la loro importanza ma soprattutto ha rivitalizzato anche la nostra comunità grazie monsignor trasarti e poi il resto del carlino oggi evidenzia purtroppo un lutto lo fa anche il corriere adriatico addio a vittorio d'enrico il mondo della marineria in lutto se spenta la notte è spento la notte scorsa a causa di un malore improvviso è vittorio d'enrico fratello del grande architetto e urbanista nazario d'enrico che era deceduto tempo fa i funerali si svolgeranno domani mattina alle 9 nella chiesa di san giuseppe al porto quel porto che vittorio tanto amava vittorio è stato presidente dell'associazione dei pesca sportivi è stato il gestore di quei quadri che sul molo di ponente del porto di Fano danno quell'immagine caratteristica di tutto l'ambiente della marineria ed era vicepresidente dell'associazione Il Ridosso quell'associazione che si dedica alla cultura alla cultura e alla cultura diciamo così delle tradizioni della marineria fanese era un grande amante del mare ex insegnante dell'istituto d'arte a Polloni per molti anni è stato appunto presidente della pesca sportiva così lo ricorda il resto del Carlino e poi nella seconda pagina vediamo come le attrezzature ma anche e soprattutto la fama di certi ambienti fanesi attirano persone un po' da tutte le regioni in questo caso dall'Abruzzo con l'elicottero per pranzare nel locale fanese ebbene sono i titolari della grotta la grotta è sulle pendici collinari sulla riva destra del fiume Metauro dove c'è la grotta di San Paterniano ebbene il titolare dice che molti tecnici di Terna quell'azienda che sta realizzando l'Adriatic Link che parte da Carrara arriva poi a Metauriglia poi si inabissa nel mare e rieperge nella regione d'Abruzzo ebbene molti tecnici di Terna prendono l'elicottero dall'Abruzzo dove c'è la sede appunto della società e arrivano a Fano per gustare non per gustare ovviamente così è un evento collaterale con l'elicottero per gustare i prodotti della gastronomia fanese merito questo della nostra pista naturale un bel prato dove gli elicotteri possono atterrare tranquillamente e poi vediamo il Festival Passaggi che si è concluso domenica con una edizione veramente eccezionale forse è stata l'edizione dei record una edizione che si è imposta per il valore degli ospiti che erano i relatori e i vari incontri per l'interesse che il pubblico ha mostrato a questo evento e per i temi che sono stati trattati temi di arte e di cultura ma anche di stretta attualità Passaggi a Villalta il premio Fortini Battaglia in Regione per quanto riguarda i fondi sì, è un festival da sostenere l'abbiamo visto ieri nel Corriere Adriatico oggi il resto del Carlino ci torna per quanto hanno detto Ruggeri Marta Ruggeri capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale e Luca Serfilippi esponente della maggioranza appartiene alla Lega occorrono finanziamenti occorrono sostegni il comune di Fano ha devoluto 80.000 euro forse ne metterà ancora altri 20.000 fino a raggiungere 100.000 euro la regione un po' di meno 40.000 ma forse questo importo sarà rimpinguato con l'aggiustamento di bilancio quando appunto i conti si rivedranno ed ora passiamo a Mondavio ADSL a Singhiozzo monta la protesta post fuori uso i clienti se ne vanno ebbene ci sono due frazioni completamente isolati dal web e quindi ovviamente il web è diventato ormai una cosa insostituibile questi residenti protestano linea fuori uso da settimane incassi a picco incassi a picco anche per quanto riguarda gli esercizi due paesi uno è San Michele al fiume l'altro è San Filippo sul Cesano entrambi nel comune di Mondavio ed entrambi collocati lungo la statale 424 ovvero la cesanense che insieme fanno 2.000 abitanti ebbene queste due frazioni da oltre 10 giorni sono le prese con il funzionamento a singhiozzo delle linee ADSL di TIM con problemi che interessano non solo gli utenti privati ma anche diversi negozi che sono dislocati dunco questa vallata sì perché poi i telefonini il web insomma chi ha la linea fissa con TIM ne risente per questi problemi a Pergola a Pergola ha avuto molto successo il ripristino della linea Pergola-Fabriano all'assalto del treno a vapore tre nuove date disponibili il treno a vapore destra sempre una grande suggestione nei passeggeri ebbene fa venire in mente l'Oriente Express fa venire in mente epoche della ferrovia americana fa venire in mente anche i piccoli tratti del nostro territorio ebbene fare un viaggio con il trenino a vapore tra Pergola-Fabriano ebbene è una cosa molto suggestiva un successo così altro non si può non definire la corsa del debutto bis del treno storico sulla ferrovia Pergola-Fabriano che si è tenuto domenica dopo che il servizio è stato interrotto per l'alluvione l'alluvione del 15 settembre quindi veramente un grande successo passiamo ad Urbino si parla del trasporto pubblico locale ovvero degli autobus togliere gli autobus ma è una trovata veramente infelice lo scrittore poeta Umberto Piersanti interviene a difesa degli anziani del centro storico di Urbino la piazza privata della loro presenza non sarà più la stessa e vediamo anche una vignetta di John Betty il grafico del vignettista del resto del Carlino che è poi fanese e vediamo qui due anziani due anziani che vivono un po' nella immediata periferia della città ducale lui guarda con il binocolo verso il duomo verso il duomo di Urbino Adriabus si fa vedere la piazza col binocolo fa veda anche a me dice la moglie con il rastrello in mano insomma è un problema che desta diversi disservizi alluvionati salvati in condizioni estreme due peloti dell'aeronautica hanno raccontato a Urbino le fasi più drammatiche degli interventi in Romagna sono delle testimonianze significative queste per quanto riguarda i disagi che hanno dovuto sopportare appunto tante persone rimaste veramente senza nulla dopo l'alluvione che ha sommerso tutto nella vicina Romagna oggi il sigillo universitario della Università di Urbino verrà concesso a Massimo Moratti aperto ad aspetti umani ed etici questo appunto la motivazione per cui viene consegnato il massimo riconoscimento della Università Carlo Bo oggi l'università celebra l'ex presidente dell'Inter la cerimonia spostata a Palazzo Buttiferri ad apecchio solidarietà concreta della partita con il cuore raccolti 8 mila euro per due famiglie che devono affrontare cure complesse per due bambini ammalati quando si parla di bambini ovviamente la solidarietà non manca vediamo anche le pagine pesaresi Ramadami una bomba innescata non aveva la patente tante altre volte era finito nei guai con la giustizia non ha mai avuto la patente il giudice dissequestrò la BMW era una macchina che era già stata sequestrata dalla giustizia insomma però questa volta era stata riconsegnata purtroppo questa macchina è stato il veicolo per cui è stato compiuto un altro delitto così possiamo definirlo Sultan evitava sistematicamente le forze dell'ordine gettandosi in strada a velocità folle lo ha fatto a Gabice lo ha fatto a Fano a Pesaro fino alla tragedia dell'altro ieri ebbene questo lo sapevano tutti si tratta veramente di un comportamento alla guida non dico solo disinvolto ma veramente inqualificabile a marzo del 2022 era stato denunciato ancora per guida senza patente a Gabice ma due giorni prima era sfuggito alla polizia locale di Fano poi un'altra fuga a Pesaro il primo aprile di quest'anno era stato intercettato a Gradara con un inseguimento cioè vogliavamente era uno che aveva tanti tanti precedenti ma purtroppo non è stato reso inoffensivo in tempo Martina il dolore e la rabbia dei genitori purtroppo la vittima di questo incidente provocato appunto da Ramadami quell'auto era un proiettile vagante papà Massimo mamma Milena dicono nostra figlia era prima di tutto una mamma che faceva sacrifici per vivere aveva un bambino di cinque anni com'è possibile che quel tizio girasse con un bolide da 190 cavalli denunciato altre più volte ebbene ora parliamo all'altre notizie sempre su Pesaro vediamo che si parla della guardia di finanza reddito stanati 66 furbetti gli evasori totali sono 88 arrestato anche un usuraio in provincia di Pesaro Urbino e l'attività delle fiamme gialle 117 persone denunciate per danni erariali la piaga della contraffazione 752 mila prodotti sequestrati perché non sicuri guardate che l'entità di questo numero è veramente enorme 752 mila prodotti sono quelli contraffatti ed ora apriamo il Corriere Adriatico la pagina di Fano è dedicata al bilancio dell'ASET sì perché il bilancio dell'ASET verrà discusso oggi pomeriggio in Consiglio Comunale quando i consiglieri saranno incentivati a votare sul permesso che si dà al Sindaco di presenziare all'Assemblea di ASET dove sarà approvato il bilancio vediamo qualche cifra di questo bilancio si parla di un utile di 4 milioni 477 mila 421 euro in calo rispetto a quello conseguito nel 2021 l'utile che viene messo in evidenza è quello del 2022 nel 2021 invece erano 5 milioni 186 mila 932 insomma circa 7-800 mila euro in meno come utile ma perché c'è stata questa diminuzione c'è stata questa diminuzione perché le spese sono aumentate tantissimo pensate l'ASET ha pagato mezzo milione di euro in più per l'aumento dell'energia elettrica un po' come hanno fatto tutte le famiglie certo non raggiungendo questa cifra ma l'aumento c'è stato ma non solo ha pagato anche un milione in più per quanto riguarda le spese dei carburanti quelle spese che sono oscillate veramente salendo alle stelle ricordate il metano quanto costava quest'inverno per poi magari attestarsi a cifre più compatibili ebbene in questo articolo si parla della raccolta dei rifiuti si parla del servizio idrico si parla poi della illuminazione un po' di tutti i servizi che presta l'ASET e chi vuole seguire il consiglio comunale può collegarsi con il sito del comune oggi a partire dalle 18 e 30 timori per il mare inquinato serie di disdette nei ristoranti anche a Fano i ristoratori purtroppo hanno ricevuto delle disdette nell'ultimo weekend da parte di clienti in modo particolare quelli che venivano da fuori regione perché credevano che l'inquinamento del mare che si è verificato dopo i recenti temporali avesse minato anche la salubrità del pesce del pescato ovviamente così non è perché il pesce che affluisce al mercato è sempre verificato dal punto di vista sanitario dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria territoriale ma questa credenza insomma ha fatto sì che ci fosse una diminuzione di clienti nei ristoranti ecco perché sia l'associazione di categoria la Confesercenti sia l'associazione produttori di pesce e produttori ittici di Fano sia poi l'assessore al turismo Etienne Lucarelli insorgano e dicano guardate che il pesce nostro è un pesce sanissimo anzi fa bene alla salute un altro articolo sul Corriere Adriatico riguarda la Caritas aumenta la povertà alimentare la Caritas aiuta 4.000 persone assistite nelle diocesi le famiglie assistite sono 1.300 spesi 40.000 euro l'anno oltre il circuito del dono ebbene veramente sono aumentate le famiglie che hanno bisogno di aiuto nell'ultimo anno vediamo in questa tabella qualche dato la mano tesa della Caritas diocesana si evidenzia con 4.000 persone assistite di queste 1.200 sono minori corrispondenti a 1.300 famiglie ebbene 3.400 euro è la spesa mensile 3.400 euro è la spesa che ogni mese la Caritas sostiene per dare dei pacchi alimentari per dare del cibo alle persone che ne hanno bisogno in tutto sono 40.000 euro l'onere complessivo annuale ebbene sono dati questi importanti che fanno riflettere su come nonostante che molti godono di una certa tranquillità ci sono tante tante persone invece che hanno bisogno e poi diamo un'occhiata anche all'articolo che ho accennato prima quando ci siamo collegati con i bagni Arzilla torrette abbattute dal vento ripristino lento bagnining è la società appunto che gestisce il servizio di salvamento nelle spiagge libere dice ci stiamo dedicati alla vigilanza richiamo del comune affanesi e turisti che nel fine settimana si sono addensati sulla spiaggia libera lungo viale Ruggeri non possono essere sfuggite un paio di cose la presenza in mare di un'ampissima chiazza di colore poco rassicurante e le torrette del servizio di salvataggio adagiate in terra insomma ci sono veramente dei problemi vediamo anche un altro articolo che riguarda Fano si tratta delle indagini che riguardano il ribaltamento dell'auto che si è verificato nei pressi della Flaminia schianto niente teste sanitari faremo altri accertamenti l'auto che è finita nel Rio Secco la polizia locale dopo l'allontanamento del guidatore all'ospedale non si fermano dunque le verifiche dopo il volo nel fosso di Cannelle dell'auto di tre giovani e siamo in conclusione mi rimane solo qualche secondo per evidenziare questo articolo di Marotta c'è l'allarme per una baby gang minacciavano addirittura un clochard veramente la situazione stava toccando dei punti critici schiamazzi all'alba Marotta un ex agente fa scappare i teppisti con pietre e bastoni ebbene prima distruggono una banchina e vandalizzano il parco e poi si dirigono con sassi e un'asta di legno verso il rifugio di un clochard per fortuna questo è stato sgominato era come dicevo l'ultima notizia a questo punto noi chiudiamo le pagine dei giornali lasciamo a voi il piacere del proseguimento della lettura e vi diamo appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con occhio alla notizia il Tg di Fano TV e domani con la rassegna stampa alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a rispettare con la rassegnappa a rispettare